E allora bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Gabri Games Oggi sto registrando in live questo video, quindi se vedete questo video vuol dire che molti di voi l'hanno visto dalla live Adesso il mio computer morirà totalmente, ma lasciate un bel ecozzo tutti quanti ragazzi Allora, cosa vi spiegherò in questo video? Come ricevere le skin gratuite da Fortnite Perché infatti Fortnite deve regalare delle skin a molti di voi, a quasi tutti voi Facendo dei semplici passaggi, come facciamo quindi per ricevere queste skin? Ve lo spiegherò subito ragazzi, prima di tutto voglio dirvi di iscrivervi con la campanella Perché ogni sera, come adesso, sono in live sul canale dove gioco con voi E faccio il contest per ricevere i bugs gratis e skin gratis Quindi lasciate un bel like e iscrivetevi con la campanella per rimanere sempre attivo anche a questo Ok ragazzi, adesso vi spiegherò come ricevere queste skin gratis Sappiamo tutti quanti che Fortnite è un gioco free to play e che le sue skin non sono mai state gratuite ragazzi Proprio per questo che è molto raro fare dei regali da parte di Fortnite Perché proprio Fortnite è uno di quei giochi più che vogliono soldi Uno di quei giochi che richiede i soldi, manco fossero dei romani Richiedono tantissime imposte, vorrebbero soldi perché alla fine le skin non ti servono a nulla E le uniche pazzie che hanno fatto sono state quelle di regalare a Natale tutti quegli oggetti E di regalare anche, e di regalare sia a Natale che nella season 7 il pass della season 8 Se non ricordo male, se era così Perché sono state due pazzie incredibili ragazzi Perché fare una roba del genere significa far perdere tantissimi soldi Perché in meno di due minuti, dopo che hai praticamente finito il pass Che te lo prendi gratis in queste missioni che facevi in due minuti Praticamente era proprio easy E quindi ragazzi Poi si conservavano i V-Buck, le persone E conservandosi i V-Buck si compravano gli altri pass E perdevano tutti quanti i ragazzi dell'Epic Games No ragazzi Quelli che lavorano nell'Epic Games Perdevano tutti quei soldi che all'inizio avevano guadagnato Tanto dove sta l'ultimo? Non capisco Eccolo E quindi dicono Tutto il nostro guadagno è stato perso E così che non hanno più fatto quell'errore di regalare il pass battaglia alla gente Perché per nel pass battaglia ci stanno 1300 V-Bucks Proprio per questo che a Natale hanno regalato due skin Che anche bruttine secondo me Ma per quelli che hanno iniziato da poco Praticamente regalavano a Fortnite Un accesso gratuito tutti i giorni per riscattare questi regali Da cui potevi trovare qualunque cosa Ed era proprio per questo E proprio su questo noi ci collegheremo A parlare delle skin Gratuite Perché ragazzi fra poco è Natale E non vorrei dire nulla Ci saranno di nuovo il Fortnite L'evento delle skin gratuite Quell'evento dove ci daranno le skin I regali e queste cose qua Ma quindi come facciamo noi a riceverle? Basta accedere e riscattare giornalmente E riscattare giornalmente Tutte queste skin che ci daranno Forse anche quest'anno ci daranno due skin Perché è stato trovato nel fallo gioco Già il trailer Di questo Fortnite Natale 2020 Perché ci sarà un evento Molto bello Come gli altri anni E regaleranno le skin un'altra volta Ragazzi Non vi ricordate l'anno scorso? E proprio per questo Non hanno ancora confermato la skin Cioè la season 4 Dove ci troviamo adesso Quando finirà Però dovrebbe finire All'inizio di novembre Ma sappiamo tutti quanti Che Fortnite Anticipa sempre Poi Prima anticipa E poi dopo va a dire Ragazzi Io Noi abbiamo Dei problemi Dobbiamo ancora controllare Però forse questa season Non sarà così E la pubblicheranno subito Tipo come il buco Non come il buco nero Ma le pubblicheranno subito La season Proprio quel giorno Perché quest'anno Hanno già programmato E finito tutto Direi di farvi vedere Una delle skin Che è stato trovato Nei file di gioco Che regaleranno La Renegade Rider Però Di Pan di Zenzero Come posso dire Come potete vedere E' spettacolare ragazzi Questa skin E a me piace tantissimo Non so Se vi piace a voi La Renegade Rider Pan di Zenzero Come regalo di Natale Dicono che sarà così Perché è stata ritrovata Nei file di gioco Poi Usciranno Nel nuove Console A novembre E ci sarà Questo nuovo pacchetto Fortnite L'ultima risata Bundle Cioè L'ultima risata Il bundle Di Fortnite Dove c'è Joker Mida Corazzato E tutte queste cose Ragazzi Sarà bellissimo Costerà sempre 20 euro Come gli altri pacchetti E niente Spero che Questo Video Vi sia stato utile Poi ovviamente Uscirà questo pacchetto Per tutte le skin No per tutte le skin Per tutte le console Nuove Quelle che usciranno E niente raga Direi che ci vediamo alla prossima Bella ragazzi